Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi, venerdì 12 febbraio, si venera San Benedetto Daniane. Nato nel 750 nel sud della Francia, San Benedetto Daniane, il cui vero nome era Vitizia, proveniva da una nobile famiglia che gli consentì di crescere nel benessere, conducendo una vita piuttosto agiata. Educato presso la corte di Pipino il Breve, dopo una breve carriera militare con Carlo Magno, nel 774 decise di ritirarsi dalla vita pubblica. E' in quell'anno che San Benedetto Daniane si rende conto del suo desiderio di farsi monaco. Del Santo si conosce ben poco, ma sembrerebbe che la sua vocazione sia nata a seguito di un terribile incidente durante il quale rischiò di annegare in un fiume insieme al fratello. Vitizia attribuì il suo salvataggio ad un miracolo di Dio e decise di farsi monaco, assumendo il nome di San Benedetto. San Benedetto Daniane viene anche ricordato per aver composto una raccolta di oltre 27 regole antiche, in cui però si sottolinea la superiorità assoluta della regola benedettina. Si tratta dell'opera che passò alla storia con il nome di Codex Regularum, in cui si ribadisce l'importanza di seguire le regole di San Benedetto Danorcia senza alcuna mitigazione, avendo cura di insistere sull'importante del lavoro e dell'ufficio divino. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con il messaggero e con le notizie nazionali e dal mondo. Vediamo la prima pagina del messaggero che apre con retromarcia USA, borse a picco, la Fed pronta a cambiare rotta sui tassi, ma nei mercati prevalgono i timori di una crisi, FMI preoccupato per la deriva delle banche, Milano cede il 5,6% e il petrolio scende a 26 dollari. In centropagina la fotonotizia, l'intuizione di Einstein, l'Italia protagonista della ricerca, l'area attorno al buco nero osservata dagli scienziati italiani e americani. Scoperte le onde gravitazionali, un faro sull'origine dell'universo. Ed in breve vediamo il Tribunale Banca Etruri ha deciso lo stato decisivo, lo stato di insolvenza ed ancora Unioni Civili, i Vescovi per il voto segreto, scontro con il governo, nuovo a fondo del Cardinal Bagnasco, Palazzo Chigi, ma non decide la Chiesa. Entriamo all'interno, vediamo in primo piano, ecco la musica dell'universo, storico annuncio degli scienziati di Washington e di Pisa, registrate per la prima volta le onde gravitazionali in una frazione di secondo emessa l'energia di tre masse solari. Einstein aveva ragione, ora ne siamo certi, lo studio del cosmo non sarà più lo stesso. Vediamo nel sommario, potremo esplorare corpi sinora inaccessibili e già si pensa di costruire un gigantesco laboratorio spaziale. Vediamo ancora nella pagina successiva, sempre dal messaggero, i protagonisti, anche gli alieni, eccoci, anche gli alieni direbbero che noi italiani siamo bravi dietro a questo successo mondiale, un lavoro iniziato dai nostri fisici negli anni Ottanta. La ricerca, ancora, la ricerca ha portato in Toscana e Abruzzo giovani ricercatori indiani, pakistani e cinesi. Difficile prevedere le conseguenze pratiche, ma dalle scoperte dei fisici sono nati i raggi X e internet. Andiamo ancora avanti, sempre in primo piano, la retromarcia USA affonda le borse, Milano cede il 5,6% e lo spread corre, gli alieni, possibili tassi negativi, il petrolio tocca 26 dollari, FMI preoccupato dalla deriva che sta trascinando le banche. Nel taglio basso vediamo tra i motivi del crollo c'è la rivoluzione tecnologica che ancora non governiamo. Andiamo ancora avanti, vediamo i mercati allarmano la UE, ma la zona euro è solida, l'Eurogruppo analizza la situazione, parola d'ordine non drammatizzare ed ancora vediamo, mano ferma sui conti, tutti devono rispettare i propri obblighi. Banche, ecco il decreto, quattro misure anticrisi, sempre in primo piano, garanzia pubblica sulle sofferenze per alleggerire i bilanci degli istituti, questo è il provvedimento, holding unica per le banche cooperative, modifiche sui paletti per chi resterà fuori per consolidare il sistema incentivi fiscali, sblocca aste e l'esordio in Italia dei fondi di credito. Il caso, vediamo, Etruria, il Tribunale dichiara l'insolvenza, sentenza dei giudici civili di Arezzo per la Procura, prende corpo l'ipotesi della bancarotta per gli ex vertici, incluso Pierluigi Boschi. Il CSM decide di proseguire l'istruttoria sul caso del PM Rossi, che sta conducendo le indagini sulla gestione della vecchia Bipel. E le carte, condotte gestionali gravemente insufficienti per i giudici, l'ente creditizio non può superare lo stato di dissesto, situazione gravissima al momento della risoluzione della Banca d'Italia. E fallimenti cambiano le regole, questa è la svolta più tutele per i creditori, la riforma nel disegno di legge del governo cambia anche il nome, d'ora in poi si parlerà di liquidazione giudiziale. Unioni civili, la CEI, voto segreto, il governo non decide, la Chiesa ha dichiarato, offensiva cattolica, interviene Bagnasco, il Family Day, canguro, colpo di mano. La vicepresidente Fedeli, chiedo rispetto per le istituzioni, bagarre in aula, bacio gay in tribuna. E vediamo il retroscena, ma Renzi evita lo scontro diretto e i cattodem, ora lasciaci mediare. Palazzo Chigi deciso a mantenere la neutralità sulle adozioni, il 23 l'incontro esecutivo e Santa Sede. Vediamo nel taglio basso il caso Notri, il referendum il 17 aprile, bocciato l'Election Day, appello di sinistra e ambientalisti a Mattarella affinché si rifiuti di firmare il decreto, costa 300 milioni. E sempre in primo piano, verso le urne, Roma, centrodestra nel caos, Berlusconi no alle primarie, tutti dicono tutti contro tutti, mentre cresce il pressing di alleati e azzurri. Gazebo per decidere il candidato, il Cavaliere però non ha dubbi, il leader correrà Bertolaso. Forza Italia si spacca, vuole perdere. E intanto il Movimento 5 Stelle vota sul programma Trasporti, Trasparenza, Rifiuti, le priorità per la capitale. Grillo lancia una consultazione online, tagli iscritti, votano in 2724, nasce la segreteria politica allargata. E vediamo ancora il caso, così i senatori timbrano per la diaria e se ne vanno. Palazzo Madama come il municipio di Sanremo, Grasso apre un'inchiesta interna. Ogni mese la furbata dei tesserini lasciati in aula vale 3500 euro, oltre all'indennità fissa. Ancora dal mondo, vediamo ecco le navi della Nato per fermare i migranti, ma soltanto nell'Egeo. I profughi salvati saranno riportati in Turchia. La conferenza di Monaco sulla Siria, ipotesi di accordo, cessate il fuoco in sette giorni. Ancora vediamo nel sommario dell'usione italiana, Pinotti, chiediamo che l'impegno dell'Alleanza venga esteso anche alle acque libiche. L'inchiesta, vediamo, Regenio è un testimone preso dalla polizia. Un uomo interrogato in nottata rivela di aver visto Giulio il giorno della scomparsa mentre veniva prelevato sotto casa. Il ragazzo aveva paura, mi hanno fotografato. Quella sera aveva un appuntamento con un professore, leader del dissenso anti-regime. Il rimpasto, Land cerca il rilancio, nuovo governo con i Verdi. Ed ancora vediamo nel taglio basso, torniamo dietro, eccoci. Vediamo nel taglio basso la strage in Messico, guerra in carcere tra narcos rivali, oltre 50 i morti. Ed ancora nelle cronache, l'inchiesta, affitti, scatta all'ultimatum, arretrati subito o sfratto a Roma. Le case comunali a prezzi stracciati, via chi non si mette in regola entro 20 giorni. Nessuno sconto sugli immobili in centro, andranno tutti all'asta a prezzo di mercato. La fotonotizia, San Lorenzo ha scoperto un ufficio open space, murata a una porta, sparisce un locale del comune. Lo scandalo, sesso a pagamento con minori arrestati parroco e malato di IDS. In 11 sotto accusa a Bergamo, il religioso avrebbe organizzato gli incontri. L'uomo pretese rapporti non protetti. Nel taglio basso, la Dio, morto Bialetti, l'omino coi baffi del caffè Madenitali, aveva 93 anni, sviluppò l'azienda creata nel 1933 dal padre, esposta al MoMA di New York, la caffetteria Moca. Vediamo adesso la prima pagina dedicata all'economia, ferrovie dello Stato, privatizzazione rinviata alla 2017, la D, Mazzoncini, prima dovremo affrontare il problema delle regole, il piano industriale sarà pronto dopo l'estate. Il tesoro, lo slittamento legato anche alle turbulenze sulle borse sfuma, per ora un collocamento potenziale di circa 4 miliardi. La performance Mediobanca, il margine di interesse trascina i conti del primo semestre. Infine nel taglio basso, ILVA, scendono in campo anche i fondi americani e cinesi. Ed ora andiamo alla prima pagina dedicata alla regione Abruzzo. Vediamo in apertura cosa riporta il messaggero. Mare inquinato, allarme rosso, questa è l'apertura dedicata alla regione. Pescara l'incubo dell'estate con il divieto di balneazione. Alessandrini chiede un dossier all'arta, oggi riunione in commissione ambientale. Lunedì il sindaco ha la manifestazione con le associazioni. Vediamo in breve a Sulmona, nove consiglieri si dimettono, il sindaco Ranalli va a casa e il decreto del ministro all'area di crisi complessa in Val Vibrata. Il caso su Facebook, post sessisti, l'assessore si scusa d'Avezzano Scoppia il caso che l'assessore avezzanese Antonio Di Fabio ha cercato subito di ridimensionare. Si è trattato di una goliardata, ha dichiarato che ho condiviso con gli amici per ridere, non volevo offendere le donne con le quali ho avuto sempre un rapporto bello. E la scoperta onde gravitazionali nel Gran Sasso, il cuore della ricerca, la rivelazione che cambierà lo studio dell'universo ha coinvolto l'istituto di fisica nucleare e il GSI. Poi calcio di serie B, sempre in prima pagina, Lanciano Bisogno, Fumata Grigia, Pescara Vicenza per tornare a correre. Entriamo all'interno, vediamo quindi la prima pagina dedicata alla regione, il vertice, Porti, D'Alfonso Stappa, il sì del Lazio, noi con Civita Vecchia, la svolta dopo l'incontro con il ministro del Rio che ha apprezzato la nostra impostazione sul collegamento tra Adriatico e Tirreno. E il caso stop all'aumento del bollo auto, sclocco, erano solo 50 centesimi, sul tappettinari dei 5 Stelle, Mariani del PD, vorrà dire che troveremo altre coperture per quel progetto, ha dichiarato. Ed ancora, prima pagina dedicata a Pescara, vediamo Ex Night, gioiello tra le serpaglie, in abbandono una delle aree d'oro dismesse sul lungomare, l'agenzia del demanio vuole 7 milioni, ha vuoto la prima asta, confermata la volontà di riqualificare quel terreno, ma nulla si muove e i costruttori non ci vedono l'affare. Foto notizia, vediamo qui sopra, in alto a sinistra, la struttura dell'ex Enaip, appunto a ridosso del lungomare, di cui si parla in apertura. Il confronto, il caso Raia Nera, Proda in Consiglio, Regione e Saga svelano le strategie, tanti interventi già prenotati, gli ex interinali di Attiva pronti all'ennesima azione di protesta. Nel Taglio Basso, fiume di Veleni, anche il sindaco in piazza, Marco Alessandrini, sarà lunedì alla manifestazione. Con le associazioni chiesti i dati all'arta, la chiave è il DK15. Entriamo ancora all'interno, vediamo ricatti informatici grazie al virus che sequestra i PC, poi vedremo meglio questo articolo, ondata di mail, truffa mascherate da comunicazioni di Enel, Banche Equitalia, le denunce sono già decine e la sentenza a Tegola per De Nicola, fallita la società che puntava alla conquista di Villapini, il blitz, piatti preparati nel vano caldaia, chiuso un bar. Bar, ed ancora l'operazione preso con 10 kg di asci, scimanete l'albanese Ritan Galica, residente nel Terramano, la trappola della mobile al casello di Pescara, sud della 14. La droga valore 30.000 euro, scusate, era confezionata in piccoli panetti, con impresso il marchio London, caccia ai destinatari. In centropagina la sorpresa, colto sul fatto mentre smonta l'auto rubata ed ancora Montesilvano, alberi abbattuti dopo l'incidente. In basso, polo chimico addio, bussi, la marcia dei cittadini blocca per un'ora la statale. E la perizia, grave ritardo mentale, non punibile, l'uomo di popoli che ammazzò il padre. Ed ancora, pagina dedicata all'Aquila, sanità, cialente all'attacco, non ci faremo imporre tagli. Quanto fatto finora sulla riorganizzazione della rete ospedaliera è puro divertissement. Per il primo cittadino sono necessari due, uno nell'area interna e uno sulla costa. In centropagina, simbolo di divisione, la Sise vota no al crocifisso in aula. È ancora il caso sotto servizi da frattale replica di fuoco a Benedetti. I proprietari in noi, in attesa da settembre, subito gli allacci provvisori. E nel taglio basso l'inchiesta opera salesiana ha chiesto il giudizio per Riga e Mancini. E vediamo ancora Sulmona. Sulmona firmano in nove. Ranalli va a casa dopo una giornata di trattative febbrili, dopo cena ratifica delle dimissioni dei consiglieri dal segretario comunale. Sbichi dà il colpo di grazia, ma è il Partito Democratico a uscire frantumato nonostante gli strali di rapino alle urne. In primavera, quindi, ad Avezzano scoperto un magazzino della cocaina, tre arresti. Sempre ad Avezzano sfondano la vetrina usando un tombino. A Sulmona lezioni in 3D nel liceo del futuro. E vediamo ancora nel taglio basso post sessisti su Facebook. L'assessore si scusa, così come abbiamo visto prima in apertura. Prima pagina dedicata a Chieti. Vediamo, molestava le madri dei bimbi malati. La perizia lo assolve. La difesa delle donne darà battaglia sulle conclusioni. A luglio del 2014 l'arresto. In un altro filone del processo si discute dell'accusa di corruzione. La campagna a cyberbulli, ragazzi a lezione di internet e ancora l'ingorgo. Cimitero, 100 salme rischiano lo sfratto. Vediamo nel taglio basso. Torniamo. Eccoci qui. Opera salesiana, l'abbiamo visto. Quindi nel taglio basso della pagina dedicata a Chieti. Coltellate al carabiniere. Condannato a sei anni. Questa la sentenza. L'ottantenne Emilio Giurastante, accusato di tentato omicidio ed evasione, era agli arresti. Vediamo a Lanciano. Pietrosa, resailing da 13 milioni, il comune promuove il bando per il project financing, parcheggi interrati, due piazze, edifici per uffici e negozi. L'intervento segue la riqualificazione di Corso Trento e Trieste. Il sindaco Pupillo, nessuno ha realizzato opere quanto noi. E a Lanciano, Ivano Versata, grana giudiziaria per la Virtus. Ancora in breve, a Vasto, il sindaco fa demolire gli abusi alla Marina. Verso le primarie, vediamo ancora Forza Italia Schiera, Maria Grazia Piccinini ed ancora Menna in campo per unire il centrodestra. Ad Ortona, Dragaggio, il giallo del doppio bando. Pagina dedicata a Teramo, infine il Ministero, Val Vibrata, area di crisi complessa. Il decreto Guidi apre la strada misure speciali per il rilancio dell'area depressa. Il perimetro include la Valtronto e altri comuni del Basso Fernano. Il caso, comune Team, finiscono dal prefetto, question time, Campana chiede lumi sulla pulizia. La pomante sui conguagli e la maroni sul teatro comunale. E la tragedia, vediamo oggi trasferita in paese. La salma di Fabrizio, il carabiniere scelto, si trovava a Gorizia, ha perso la vita in un fuoristrada. Domani i funerali a Castelcastagna. Vediamo sulla costa, Giulianova, sfratti. Il comune aumenta la pressione. Ieri una coppia con figli in via Lombardi, invitata a lasciare l'alloggio. Perché in possesso di altra casa rifiutato, si procederà ugualmente. Previste altre cinque operazioni forzose, caso limite in via Oberdan, con un appartamento occupato per due volte in una sola settimana. A Roseto, candidati a sindaco da 4 a 6, oltre a Pavone, Di Girolamo, Ciancaione e i Cinque Stelle potrebbero correre Rapagnà e Felicioni. In Val Vibrata, carabinieri, arresti e denunce, finanza in trappola, due albanesi, operazioni contro i furti e il traffico di droga delle forze dell'ordine. A Giulianova, infine, violenza sessuale, infermiere assolto. Ed ora ci fermiamo con la rassegna stampa per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it e abruzzometeo.org. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, quali aggiornamenti e quali novità se ci sono? Allora, come avevamo già annunciato nei giorni scorsi Elisa, la nostra penisola continua ad essere sotto la scia, risultare sotto la scia di correnti atlantiche in seno alle quali si muovono dei sistemi nuvolosi in rapida successione. Uno di questi sta attraversando la nostra regione proprio in queste ultime ore e sta dando luogo a delle precipitazioni un po' su tutto il territorio regionale. Le precipitazioni risulteranno di debole intensità sul versante orientale, localmente più consistenti sulla Marsica e nell'Aquilano, dove saranno possibili delle nevicate intorno ai 700-900 metri. Nel corso della mattinata ci saremo a un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche, con delle schierite in estensione verso il settore orientale, ma a partire da stasera una nuova veloce perturbazione attraverserà ancora una volta la nostra regione, favorendo un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto sulla Marsica e nell'Aquilano e sulle zone montuose, dove sono previsti dei rovesci, localmente anche di una certa consistenza, e delle nevicate intorno ai 600-900 metri. È previsto anche un rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, con delle raffiche anche decise sulle zone montuose e sul versante orientale, mentre le precipitazioni sul versante orientale e lungo la fascia tortiera saranno meno probabili. Tuttavia, tra la tarda serata e le prime ore della mattinata di domani, non si escludono dei rovesci a carattere sparso anche sulla fascia orientale della nostra regione. Poi ci sarà un temporaneo miglioramento, ci saranno delle schierite nella giornata di sabato, ma una nuova perturbazione si avvicina alla nostra penisola e raggiungerà anche la nostra regione, soprattutto nella giornata di domenica. A partire ancora una volta dal settore occidentale, in estensione un po' su tutto il territorio regionale, ci saranno le piogge e ci saranno localmente anche dei temporali, ma più probabili sul settore occidentale, ma questa perturbazione poi segnerà l'inizio di un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, l'ISAM, sulla nostra penisola. In particolar modo sulle regioni centrosettentrionali, perché si formerà un minimo depressionario che dalle Baleari poi si sposterà gradualmente verso la nostra penisola, quindi questa situazione potrebbe portare delle precipitazioni piuttosto intense anche sulla nostra regione, inizialmente sul settore occidentale della nostra regione nel corso dei primi giorni della prossima settimana. Ma di questa situazione prevista ne riparleremo diffusamente nei prossimi aggiornamenti, Erisa. Bene, grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it, abruzzometeo.org, potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo, così come lo potrete fare attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, insomma essere sempre aggiornati, soprattutto in tempo reale, sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria. Tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6. Continuiamo la nostra rassegna stampa. Vediamo le prime pagine del centro, quindi la prima pagina dedicata alle quattro province. Iniziamo con quella di Pescara, che apre con Uccise il padre, sarà prosciolto il delitto Corazzini a Popoli, la perizia scagiona il figlio, ha un ritardo mentale, è incapace di intendere, l'assassino era stato già graziato dal presidente della Repubblica Ciampi per un altro omicidio. In centro pagina la scrittrice abruzzese torna in libreria, Edimo Scufo, la protagonista del nuovo romanzo di Gamberale. Nelle cronache vediamo in Pescara affari e debiti, la venti società di De Nicola dopo il fallimento. E gli stagionali vediamo Francavilla cerca 15 vigili urbani, parte il concorso. In auto con 10 kg di droga, Corriere Albanese arrestato sulla 14 con un carico di Ascish. Vediamo nel taglio alto, calcio serie B, stasera c'è il Vicenza, il Pescara all'assalto con Verde e Mitrita. Ancora fuori Cocco, l'ex a ruota libera, Marino Oddo, fa giocare il miglior calcio della B. Vediamo ora la prima pagina dedicata invece a L'Aquila. Avezzano e Sulmona, Ranalli cade, si torna al voto. Sulmona si dimettono in nove, consiglio da sciogliere. In centro pagina la fotonotizia, Avezzano colpo in via Corradini, vetrina della tabaccheria sfondata con un tombino e ha sprangate. Nelle cronache, l'Aquila, manager l'ASL, la regione sceglie Tordera. Ad Avezzano due famiglie sono senza casa per incendio. Bagni Sebac, tre a giudizio. L'Aquila, ex funzionaria dell'azienda, sotto accusa per frode. La scoperta del secolo aveva ragione Einstein, onde gravitazionali viste per la prima volta. a Gran Sasso Institute e all'Aquila festeggiano gli otto ricercatori. Ed ora vediamo la prima pagina dedicata alla provincia di Chieti. Sfrattati dal cimitero, 150 morti. Da 30 anni occupano loculi gratuiti e provvisori. Ultimatum dell'assessore ai parenti. Una settimana di tempo per regolare i conti, se no i loro cari finiscono nella fossa comune. In centropagina, Chieti in festa per l'evento sportivo. La fiaccola dello sci scortata in città da mille studenti teatini. Nelle cronache, in vasto, salto di corsia con il tir. L'autista si salva. In Chieti non è violenza, agì sotto effetto dei farmaci. Sabatino sarà assolto questo interrogativo. Ed ancora, pugnale a carabiniere, 6 anni, il teatino imputato li sconterà in carcere anche se è ottantenne. L'intervista al super prefetto, Savina, il vice capo della polizia, con Chieti nel cuore. Le reazioni, orgoglio d'Abruzzo, complimenti e saluti. Ed ora vediamo la prima pagina dedicata alla provincia di Teramo. Pioggia di milioni sulla Val Vibrata, il ministro Guidi concede il riconoscimento di area di crisi complessa insieme al Piceno e la prima interregionale in Italia. Avrà aiuti straordinari per rilanciare l'industria. In centropagina, scaduto il bando delle ferrovie, Arena Quattropalme di Roseto in vendita, ma il comune non fa offerte. Nelle cronache, Teramo spende il doppio della media nazionale per quanto riguarda le bollette elettriche. Nello sport, Coppa, fuori le riserve del Teramo, Biancorossi, K.O. a Siena. Si svegliano coi ladri in casa, notte di terrore per una coppia teramana, furti anche a Pineto. In alto il caso Azzu, D'Alfonso si dissocia dalla nomina di Sorgi, è inopportuna. L'ok del rettore, d'amico, saprà darci la casa dello studente, ha dichiarato. Ed ora vediamo la prima pagina dedicata al quotidiano della provincia di Teramo, la città, in apertura, finanzieri veri, sospetto sbagliato, svelato l'equivoco del 28enne di Tortoreto scambiato per spacciatore albanese dai militari del GICO. In breve, giudiziaria, assolto l'infermiere, accusato di stupro il provvedimento. La Val Vibrata diventa area di crisi per i fondi. Alba Adriatica, corriere beccato con un chilo di hashish. In centropagina, la fotonotizia, il 17 aprile con le elezioni, sarebbe costato 300 milioni in meno. referendum folle. L'incidente in Slovenia, domani l'ultimo addio al giovane carabiniere. Versati 850 mila euro, il comune paga e zittisce i gufi in Team. Altro che revisione, ancora, Teramo spende il doppio per l'energia elettrica. Migrante molesto di nuovo in città, doveva essere allontanato, invece è a piano della lente. Entriamo all'interno, vediamo la pagina dedicata alla regione. Trivelle, referendum quindi il 17 aprile, il Consiglio dei Ministri fissa la data, alternativa libera. Si voti insieme alle amministrative. Il caso in regione, detenuti psichiatrici, Abruzzo verso il commissario. Giudiziaria, Pescara, processo Maremonti. Il giudice si dichiara incompatibile, sotto la lente di ingrandimento, l'appalto per la realizzazione della strada statale 81. All'Aquila, Parco, scoperta una nuova pianta, il suo nome è un omaggio all'Aquila. Ed ancora, vediamo all'interno, operazione antidroga, finanzieri veri, sospettato o sbagliato. I due che mercoledì pomeriggio hanno fatto eruzione armati in una villa a Colle Luna, erano veri militari del GICO, hanno scambiato un 28enne di Tortoreto per il terzo complice di una banda di corrieri albanesi, arrestati davvero. L'operazione militare in Borghese del GICO, della Guardia di Finanza, erano sulle tracce di una banda di spacciatori di droga albanesi. L'interrogazione, cineteatro comunale, la Marroni chiede chiarezza sulla proroga tecnica. E vediamo ancora al Badriatica, corriere beccato con 10 kg di asci, cine a 14, 34enne albanese, seguito dalla polizia fino a Pescara Nord e poi arrestato. Teramo, il comune paga Team che paga gli stipendi. L'amministrazione ha versato gli 850 mila euro dovuti per il mese di gennaio, zittiti anche i gufi dentro il sindacato. Il question time, consiglio lampo per le nuove regole sugli orari. Il caso a Teramo, l'illuminazione pubblica costa il doppio. Il consigliere Falasca, nella foto, la media italiana è 18 euro pro capite, a Teramo invece è 35. Sanità fracassa, sempre nella foto, all'ospedale multati solo i poveri Cristi. Consigliere critico sulle sanzioni elevate in Piazza Italia, i medici possono anche annullarle, invece gli utenti no. Castel Castagna, domani i funerali del giovane carabiniere. Fabrizio Spagnoli, nella foto, la salma del giovane, sta rientrando a Castel Castagna dopo l'incidente in Slovenia. Andiamo ancora avanti. Sottopassi tra degrado, infiltrazioni e sporcizia, città della bici e del pedone. In centro ce ne sono quattro, uno senza funzione, uno chiuso, uno impraticabile e un altro in restyling perpetuo sotto l'ipogeo. Ecco le foto, appunto, del sottopasso di Viale Crucioli, utilizzato come orinatorio e come stazione ecologica a destra, il sottopasso di Piazza Martiri. Teramo, il migrante molesto, torna a Piano della Lenta, andava trasferito in una struttura attrezzata per il disagio psichico e le dipendenze, invece, è di nuovo nel quartiere. L'iniziativa Fidas invita le coppie a donare il sangue a San Valentino. Consumatori, Enel mette in guardia dalle e-mail dei truffatori. Ed ancora, vediamo, andiamo avanti, pagine interne della città, in provincia, Giulianova, i balneatori abruzzesi non marciano su Roma per il presidente Morgan Di Concetto. L'unico modo per superare la Bolkstein è richiedere le concessioni bentennali. La protesta, mercoledì prossimo, il presidio delle associazioni di categoria alla sede della regione Liguria. Castellalto amministrative Vito Strusi è lo sfidante ufficiale di Di Marco. Il dottore sarà il candidato sindaco per la lista civica trasversale denominata Cammino Comune per le elezioni di primavera. Trasporti, tua, due guasti in un mese, il viaggio da Roseto all'Aquila è un rebus. La segnalazione è di una viaggiatrice, la risposta della società unica, problemi ai mezzi prontamente risolti. Tortoreto muore in ospedale il re dei Salumi, Giustino Costantini. Il caso a Corropoli, stesso nome e stessa data di nascita per due cinesi vittime di un incidente. In Val Vibrata, la Vibrata diventa area di crisi complessa, nuovi finanziamenti in arrivo dopo il via libera del ministro Guidi, un successo per la provincia che aveva presentato la richiesta assieme alla regione. E ad Alba Adriatica, Marastoni prenota Alba Parietti al carnevale estivo, l'organizzatore di eventi ufficializza la sua proposta per salvare l'evento. Colonnella sul caso Truemptum, Pollastrelli confonde la politica con la ricerca della verità. è a Tortoreto, il PRG lascia troppe questioni in sospeso, il gruppo Tortoreto merita critico con il piano approvato dalla Ricchi. Provvedimenti per l'erosione, ecco cosa manca, sulle case popolari, sui centri sportivi e sui centri di aggregazione. Alba Adriatica, il candidato sindaco lo sceglieremo, lo sceglieranno le primarie. Il segretario del PD, Gabriele Viviani, nella foto, infierisce sul flop di Colonnelli con Anno Zero. E a Giulianova, tutti in cerca di merito per la caserma, l'annuncio di Mastromauro spiazza tutte le forze politiche giuliesi. Il sindaco si sarebbe aspettato un minimo di riconoscenza, così come avrebbe voluto Franco Arboretti. E a Giulianova, cronaca dopo l'ondata di furti carabinieri, rafforzano i controlli attorno a Mosciano. E a Mosciano ancora l'agenzia Dogane si sposta ufficialmente a Mosciano. Il cambio di sede della sezione operativa avrà inizio a partire da mercoledì prossimo. Musica, Francesco Fratini, un giuliese sbarca a Sanremo Doc. E sempre a Giulianova, giudiziari, assolto l'infermiere accusato di aver stuprato l'amica. Per l'accusa avrebbe narcotizzato una ragazza per poi abusare di lei. Ad Atri, consiglio straordinario sul parto di Atri. L'ASL manda un'altra nota per assicurare sulla qualità del servizio, ma le polemiche non accennano a placarsi nuove inchieste. Per il consigliere Luciano Monticelli, ci sono ancora i margini per un ripensamento da parte della regione Abruzzo. La precisazione, il trasporto in ambulanza verso il punto nascita non è atipico, ma normale, passi in tutta Italia. Sempre ad Atri, la BCC di Castiglione dona un defibrillatore al comune. Il direttore della filiale di Pineto incontra il sindaco a Stolfi a Palazzo Ducale. Denunciato a Roseto prova a rubare al supermercato riempendo la giacca di prodotti in apertura. Invece è sempre a Roseto, il comune non vuole l'arena a quattro palme, l'amministrazione non partecipa alla gara per acquisire la storica struttura. A Roseto sempre a Palti, anche Roseto entra nella stazione unica della provincia. Cronaca, cane morto trovato in spiaggia a Silvi. Ed ancora a Roseto, SEL presenta il progetto per mettere il Tordino in sicurezza. Incontro questa sera alla Baia del Re con Mario Mazzocca e Rosaria Ciancaione. Ed ora torniamo invece al centro, torniamo alla pagina all'edizione dedicata a Pescara. Abbiamo visto in apertura, entriamo all'interno, vediamo le pagine dedicate appunto alle province. Iniziamo dalla pagina dedicata alla regione, timbro e vado via, caccia gli assenteisti sul lavoro. Il sindacato, ma sono casi isolati, fanno discutere i casi più recenti di denunce e condanne nell'ASL e nella pubblica amministrazione. CISL e CGL è una questione di organizzazione e gestione del personale. Le regole ci sono da sempre. Sanità alla regione, 2 miliardi e 400 milioni, deciso il riparto 2016 del Fondo Nazionale. Andiamo ancora avanti, vediamo, abbiamo già visto le trivelle, no, election day, referendum il 17 aprile. Ed ora la pagina dedicata a Pescara, Croce Rossa, campagna elettorale al via. Assunzioni, ambulanza e sede prima delle elezioni, il rinnovo della presidenza del 28 febbraio coinciderebbe con il via libera all'edificio di Villa Fabio e all'arrivo del mezzo. E spunta un secondo candidato. Ed ancora, vediamo De Nicola, 20 società tra affari, fallimenti e debiti, finanza e procura ricostruiscono le priorità del grande debitore di carichieti, i guadagni ottenuti non pagano le tasse e i creditori reinvestiti in immobili. La commissione via al piano per salvare le opere di Persio. È pronta una modifica, norme urbanistiche del comune per sbloccare la ristrutturazione dell'ex Banca d'Italia. Il sindaco fiume inquinato da scarichi di altri comuni, Alessandrini, scrive al direttore dell'Arta Amicone per richiedere analisi fino a popoli, è possibile che a monte ci siano depuratori civili o industriali non funzionanti. Vediamo in centropagine il forum dell'acqua aderisce alla protesta di lunedì e oggi in commissione ambiente si parla di mare sporco. Colle Pineta ricorda i nove militari, cerimonia con le scuole, presente anche uno dei sopravvissuti all'Ecidio. Andiamo ancora avanti, vediamo la pagina successiva. Barbiere muore stroncato da infarto, piazza Duca in lutto per la scomparsa improvvisa di Pietro Pier Gallini, per tutti i Piero, oggi funerali in via Cavour. Pescara, carabinieri beccato mentre smonta un'auto rubata nel parcheggio. E sorpreso, ancora nelle cronache, sorpreso con 10 kg di ascici in auto, droga per 30.000 euro, la mobile ha arrestato il Corriere Albanese alle porte del casello autostradale. Ed ora vediamo la notizia qui riportata in breve, polizia postale occhio al virus CryptoLocker. Vediamo bene di cosa si tratta con il contributo video di Alfredo Primante. Anche la polizia postale abruzzese mette in guardia gli utenti della rete dopo aver registrato una nuova ondata di attacchi attraverso invio di mail contenenti il noto virus CryptoLocker, che imperversa ormai da un po' di tempo sul web. Nonostante gli sforzi investigativi abbiano già consentito di individuare diversi individui e gruppi organizzati, sia italiani che stranieri, impegnati nella organizzazione e realizzazione di simili campagne fraudolente, la diffusione del fenomeno ha indotto gli inquirenti ad aumentare le misure di prevenzione attraverso ogni strumento utile a garantire la sicurezza di chi naviga in rete. Il modus operandi dell'organizzazione è sempre lo stesso. L'ignaro utente riceve sulla propria casella di posta elettronica un messaggio che fornisce indicazioni ingannevoli su presunte spedizioni a suo favore oppure contenente un link o un allegato a nomi di istituto di credito, aziende, enti, gestori e fornitori di servizi noti al pubblico. Cliccando poi sul link oppure aprendo l'allegato, solitamente un documento in formato PDF o zip, viene iniettato il virus che immediatamente cripta il contenuto delle memorie dei computer anche di quelli eventualmente collegati in rete. A questo punto si realizza il ricatto dei criminali informatici che richiedono agli utenti per riaprire i file e rientrare in possesso dei propri documenti il pagamento di una somma di alcune centinaia di euro in bitcoin, moneta virtuale per ricevere via email un programma per la decriptazione. La polizia postale raccomanda di non cedere al ricatto e di tenere sempre aggiornato il software del proprio computer, munirsi di un buon antivirus, fare sempre un backup, ovvero una copia dei propri file ma soprattutto fare attenzione alle email che si ricevono specialmente se non attese evitando di cliccare sui link o di aprire gli allegati. La polizia postale delle comunicazioni invita gli utenti per ricevere informazioni a fare riferimento al sito www.commissariato.dps.it L'anno scorso la pol posta ha scominato un'organizzazione criminale per associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo informatico e sorsione online nel riciclaggio degli illeciti proventi realizzati mediante la diffusione del virus che ha avuto come vittime privati cittadini ma anche aziende private e pubbliche. Ancora dal centro, nel taglio basso, lotteria Agbe Cercasi, vincitore della Fiat Panda, ancora sconosciuto il titolare del biglietto fortunato numero 19772. Andiamo ancora avanti alla conquista della notte, la pizzeria non chiude mai, brand tutto italiano per Alice, locale che aprirà a fine mese in via Venezia, l'idea di Marco Febbro, imprenditore della moda che ama mangiare sano. Selfie e fiori per la festa degli innamorati ed ancora un talento pescarese al Sistina, Martina Gatto, accanto alla Ferilli nella commedia Signori, le patè delle Maison. Andiamo ancora avanti concorso, vigili stagionali, inutile raccomandarsi. A Francavilla il comune cerca 15 stagionali con l'incarico di 5 mesi, Luciani fa un appello alla serietà, non tentate neppure di avvicinarci. E a Francavilla ancora, in breve, Anas, gallerie sicure dopo i lavori sulla variante, San Giovanni Teatino, Movimento 5 Stelle, nessun dice la verità, sulla chiesa di San Rocco. Ancora Francavilla fuori pista con gli sci, a 88 anni, si frattura tibia e perone per una caduta, ma ricomincerò presto, ha dichiarato l'88enne. Andiamo ancora avanti, vediamo la pagina successiva. Entriamo nella pagina dedicata, un attimo di pazienza, nella pagina dedicata a Montesilvano, traffico e inquinamento, camera gas in galleria, serve un nuovo svincolo, troppo traffico nel tunnel della circonvallazione, le proteste degli automobilisti, proposta del comune all'Anas, un'altra uscita per evitare le code e abbattere lo smog. La polemica, Ruggero città in ginocchio, Maragno si dimetta subito, l'opposizione va all'attacco, disattese le promesse fatte sotto le elezioni, la raccolta dei rifiuti è drammatica, il mare è sporco, il sindaco sveli i dati. La vediamo nel taglio basso, a Montesilvano il comune premia la regina dello swing, oggi la consegna di una targa a Norma Miller, la cantante di New York, ama Montesilvano. Ed ancora vediamo la pagina successiva, eccoci la spoltura, il processo Beffa va verso la prescrizione a quasi cinque anni dall'arresto di Ranghelli e Roselli, il dipattimento non parte, ora il giudice è incompatibile, sarà sostituito tra otto mesi la sentenza nel 2018. A spoltore il sindaco inaugura la scuola dedicata alla Montalcini. E ancora in breve Montesilvano, droga nascosta in cucina, arrestato, sempre a Montesilvano, pala congressi, via al bando per i servizi. E le stelle di Montesilvano, le ragazze del calcio a cinque come la Juve, 14 vittorie di fila. Ancora vediamo in Popoli, uccise il padre a coltellate, sarà prosciolto. Sante Corazzini, già graziato dal presidente Ciampi, per il perito del tribunale, è incapace di intendere e di volere. Ed ancora vediamo Bussi, sfila oggi il corteo per la bonifica. Penne, lezione sui treni a Pescara per gli studenti dell'ITC. Sempre a penne, ecco perché diciamo no al PD, il segretario di rifondazione Gabriele Frisa, rifiuta l'alleanza elettorale. Catignano, quei rimborsi negati al notabile DC, l'83enne, Pier Mattei, ultimo baluardo dei valori dello scudo crociato. Bussi sul tirino, tre ciaspolate con il bosso tra Canyon del Gran Sasso. Ed ancora vediamo, intervista Luigi Savina, io vice capo della polizia, grazie a Expo e Merkel. Il governo nomina il teatino DOC, prefetto è numero uno, è numero due, scusate, della pubblica sicurezza. Vorrei che gli italiani si sentissero sicuri come quella volta di Holland a Milano. In breve abusi sulle pazienti, il prof Sabatino verso l'assoluzione. Nel taglio basso, San Salvo, autocisterna, si ribalta e salta la corsia. Paura per un camionista di San Salvo, appunto ferito in un incidente sulla 1, il tir trasportava l'Iquami. E vediamo nella pagina successiva, campionati studenteschi di sci in mille, esultano davanti alla fiaccolata, grande festa alla villa comunale per anticipare i mondiali che si terranno all'Aquila, la Dottavio, madrina dell'evento. E pagina dedicata all'Aquila, Ranalli disarcionato, si torna alle urne, si dimettono nove consiglieri, e l'assise comunale dovrà essere sciolta, si attende il provvedimento del capo dello Stato. Sempre all'Aquila, manager Rasl, la regione sceglie Tordera, l'ex direttore Caris, attuale amministratore della SEM, chiamato alla guida della sanità aquilana. In breve, inchiesta a Bagnisebac, tre a giudizio, frode nelle pubbliche forniture. Ed ancora Avezzano, fese sessiste, bufera sull'assessore, Avezzano, quindi San Valentino, al vetriolo. Andiamo ancora avanti, pagina dedicata a Teramo. Sì, all'area di crisi complessa, invibrata, arrivano gli aiuti, il ministro Guidi firma il decreto, e la sesta in Italia è la prima interregionale, riguarda anche l'ascolano. Soddisfazione nelle marche, ma il sindaco di Ascoli nutre dei dubbi. Vediamo nel taglio basso, bus rotto, proteste dei viaggiatori, ripetuti guasti sulla linea Silvi L'Aquila, replica la tua, evento imprevedibile. E l'invito alle coppie da parte della Fidas per San Valentino, venite a donare il sangue. Ed ora torniamo al messaggero per la pagina sportiva, quindi con Abruzzo Sport, che apre con la Serie B Oddo. Non sbaglieremo, l'allenatore di Pescara è pronto a sfidare il Vicenza stasera all'Adriatico. Mostreremo la nostra differenza, ha dichiarato. Tanti indisponibili, scelte quasi obbligate, niente cocco, in questo momento ci sono altri a darmi delle garanzie. E noi ci fermiamo per ascoltare le parole dell'allenatore Oddo durante la conferenza stampa che si è svolta ieri al Poggio degli Olivi. Ascoltiamo. Sul mio futuro io ho già risposto. Nel momento in cui ho voluto fortemente non uno ma due anni di contratto è perché reputo che sia opportuno fare un certo tipo di progetto. Le condizioni per fare questo tipo di progetto sono state esaltanti quest'anno perché abbiamo costruito una squadra come la volevamo e stiamo raggiungendo tutti i nostri obiettivi, cioè quello di fare una squadra comunque di ragazzi che dovevano avere un certo tipo di crescita e la stanno avendo, che potrebbero puntare per qualcosa di importante e siamo in corsa. Quindi fino adesso è tutto perfetto. Credo che la grande certezza del Vicenza sia il suo allenatore, un allenatore molto bravo, molto preparato e probabilmente quello che mi fa più paura del Vicenza è il suo allenatore, nel senso che è uno che è in grado di creare parecchie difficoltà agli avversari perché legge e studia molto bene gli avversari e sa come contrappozzi. In questo momento siamo la terza forza del campionato e dobbiamo dimostrare di meritare questa posizione. Quindi siamo molto concentrati, siamo consapevoli del fatto che non possiamo sbagliare l'idea che non sarà una partita difficile, però dobbiamo essere anche consapevoli del fatto che se ci sono un tot di punti di vantaggio una risposta ci deve essere per forza, però poi lo dobbiamo dimostrare sul campo. Coda e Campagnaro ci saranno a Cagliari? Io sono fiducioso, soprattutto per Campagnaro, sta bene, ha ripreso ieri, la zona che era interessata è pulita e quindi penso che possa, non lo dico con certezza, non lo dico al 100%, ma ci sono ottime chance che possa essere disponibile. Coda, non lo so, si tratta di, lui ha preso una forte contusione, ha un ematoma, quindi dipende da quanto tempo ci mette a assorbire questo ematoma, perché lì è proprio una questione di, essendo sul costato, un semplice movimento fa male e quindi, però non credo che sia una cosa lunghissima, penso che anche lui possa forse essere disponibile. Ed ancora vediamo Virtus, fumata grigia, accelerazione di bisogno e frenate dei Maio, ieri primo contatto, lunedì il nuovo incontro. Lega Pro nel taglio basso, il Teramo pensa alla penalizzazione, va KO in Coppa, Siena decide un gol di Rozzi, intanto il club aspetta il risponso dei giudici federali, sperando sia positivo. Anche qui ci fermiamo, quindi la gara si svolta ieri pomeriggio e vediamo il servizio di Andrea Costantini. Si arresta ai quarti di finale il cammino di Coppa Italia del Teramo, battuto di misura a Siena per 1-0. Prova più che dignitosa per i ragazzi messi in campo dal tecnico Vivarini, seconde linee o giovani della Berretti, con il supporto in campo di un titolarissimo, come Perrotta nel trio di difesa, come previsto in campo Brugaletta, Cecchini, Palma, Paolucci e la coppia d'attacco Moreo-Lenoci. Opportunità di mettersi in mostra per il difensore Serrao e per l'ultimo acquisto del mercato, il centrocampista Prezioso. Nella ripresa spazio anche ai vari Dini, Frezzi e Calderaro. La partita però risente di un clima da amichevole e non lascia particolari tracce, se non un palo colpito dal senese Rozi nel finale di frazione. Più viva la ripresa, nella quale si mette in evidenza Paolucci con qualche buona sortita, anche se il portiere più impegnato è Narduzzo, che con un gran riflesso nega il gol all'ex lancianese De Feo. Un altro ex Virtus Lanciano come Antonio Rozi però decide partita e qualificazione al 26esimo con questo bolide da molto lontano che sorprende Narduzzo fuori dai pali. Bella giocata per l'attaccante Scuola Lazio che in terra senese cerca di riabilitarsi dopo i soli 45 minuti giocati in cadetteria con la maglia rosso-nera nella prima parte di stagione. Mentre i bivarini da spazio ai giovani, ancora De Feo prova a chiudere il discorso ma trova l'opposizione di Narduzzo. L'unica chance per andare ai supplementari, il Teramo ce l'ha con la punizione dello specialista Le Noci ma la palla scheggia l'incrocio. Nel finale ancora Narduzzo in uscita bassa vince il duello con De Feo prima del fischio finale che permette al Sire di avanzare in semifinale. Il Teramo, che aspetta ancora il verdetto della Corte federale d'appello dopo che il collegio giudicante sia riservato alla decisione ai prossimi giorni, si concentra sul campionato. Buona parte del gruppo di titolari è rimasta a lavorare a Teramo. Nel venerdì di antivigilia il gruppo tornerà a lavorare al completo mentre sabato mattina ci sarà la consueta rifinitura in vista del match del Bonoris di domenica prossima alle 17.30 contro il tutto cuoio dell'ex Calvano e sulla cui panchina tornerà a sedere il tecnico Lucarelli che ha finito di scontare quattro giornate di squalifica. Vediamo ora l'articolo sull'Aquila giorno di silenzio nelle trattative sulla società si immaginavano tempi rapidi invece i contatti sembrano al momento interrotti. La nostra segna stampa termina qui e quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna domani. Grazie per l'attenzione e buona giornata. 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 Grazie a tutti.